Olore di geranio, se la volete passare, profinate nella mente per sentire meglio questa componente odorosa, ed è una specie tossica. Esemplari, diciamo così giovani, già denotano questa componente odorosa. Allora, sentiamo, non l'ho mai visto questo. Allora, intanto per questa colorazione, diciamo, violacea, nella zona, diciamo, di scale troviamo questa tinta sul crema, diciamo, verde molto pallido. Fallo vedere, va bene. Quindi il colore viola non è uniforme su tutta la... No, non è uniforme, è soltanto, sì, nella parte, diciamo, marginale del cappello, nella zona periferica. Invece nella zona, diciamo, di scale, sempre, diciamo, con questa depressione, c'è questa colorazione sul crema, diciamo, verde molto tenue. Ecco qui l'odore. Perfetto.